Si è parlato di infezioni virali in un convegno scientifico organizzato dal dottor Alessandro Grimaldi, infottivologi, ma non solo all'emiciclo. Tanti gli argomenti sul piatto dall'HIV al SARS-CoV-2, passando per le patiti virali. La buona notizia è che ci sono nuovi farmaci ed efficaci per l'HIV. Questi nuovi farmaci funzionano nel senso che possono essere somministrati una volta ogni due mesi. Questo chiaramente facilita la vita dei pazienti. Oltre ad essere efficaci, infatti, permettono al paziente di non dipendere dall'assunzione quotidiana del farmaco. Quindi, di fatto, migliora la vita di queste persone. Immaginiamo, per esempio, le persone che fanno un lavoro, che vanno fuori per motivi di lavoro e che magari hanno difficoltà a portarsi i farmaci, a conservarli. In questo modo hanno, diciamo, maggiore facilità nell'assunzione. Fanno una somministrazione in tramusco e poi la rifanno dopo due mesi. Ma tra gli argomenti affrontati, anche quello del long covid, che ormai si sa come affrontare al meglio. Ci sono terapie, infatti, che funzionano. Il long covid colpisce moltissime persone nel mondo. È altamente invalidante. Ecco perché sono sempre più importanti nuove terapie. In long covid ci sono delle novità perché si cominciano a capire i meccanismi. Immaginate che oltre 200 milioni di persone vengono colpite da questi sintomi, cioè persistono i sintomi del covid dopo la guarigione del covid. Quindi di fatto è come se non si guarisse. Oggi cominciamo a capire i meccanismi. Ad esempio che c'è una riduzione dei livelli di serotonina e questo potrebbe aprire la strada a delle terapie per il long covid che fino adesso sono state abbastanza nebulose. Non dimentichiamo che il long covid ha dei sintomi altamente invalidanti, come per esempio i deficit della memoria, la nebbia cerebrale e così via. Quindi sono fortemente invalidanti e colpiscono nel mondo, come dicevo, oltre 250 milioni di persone. Quindi ormai è una delle patologie più diffuse.